Salve a tutti e bentrovati! Oggi andiamo dentro al labirinto, nel labirinto di Chereni. Questo autore di miti, di religioni, che sviluppa, approfondisce il pensiero filosofico antico, che ci porta proprio al cospetto dei mitologemi più importanti e significativi, me l'ha fatto riscoprire un archeologo, un archeologo molto capace, che voglio subito ringraziare, Francesco Pollastri, che non conosco di persona, ma sono onorata di conoscere attraverso i social, perché mi offre degli stimoli giornalieri, proprio quotidiani, con i suoi racconti, con le fonti scritte e materiali che divulga, e quindi mi offre veramente degli spunti molto interessanti, grande linfa, e quindi lo ringrazio anche per avermi ricordato questo autore che adesso sto spulciando, rileggendo, ristudiando, e questo lavoro nel labirinto è un lavoro veramente che ho ritrovato, esaustivo, completo, con una M proprio grande, che riempie, avvolge. E Krauss dice in questo libro, spesso la filosofia non è altro che il coraggio di entrare in un labirinto, e secondo me non c'è niente di più vero, mi ci ritrovo veramente. Fondamentale è prendere consapevolezza che, come poi sempre i miti, ci mostrano, ci parlano di noi, del nostro io interno, e quindi muoversi dentro al labirinto significherà anche una condizione di esistenza, esistenziale, un progetto di sopravvivenza, tenetelo presente mentre ci avventureremo, una proiezione simbolica e un'autorappresentazione del sé, più di così. e quindi non solo ce lo dice Jung, e chi mi segue nella rubrica Jung in rosso lo sa perché ho affrontato comunque anche il tema del labirinto legato a Emandala, e a questo aspetto spiraliforme, ma è molto importante non cadere in certe trappole, che già siamo dentro un labirinto, è un po' pericoloso, ci dà un certo senso claustrofobico, e quindi quali sono questi pericoli labirintici di cui ci mette proprio in guardia lo stesso Chereni? Intanto smarrirci, ovviamente, perdere la strada in che cosa? Tutti quegli stimoli iconologici, prospettive storico-religiose, filosofiche, antropologiche, archeologiche, tante sfaccettature linguistiche, che naturalmente sono interessantissime tutte, ma queste prospettive rischiano di farci perdere quello che è il fulcro del tematico figurale, e quindi non perdiamoci, certamente guardiamo, sondiamo, distratti e rapiti in qualche modo le singole narrazioni, ma non molliamo, non togliamo la nostra mano dal filo di Arianna, che ci ricondurrà dove? Non all'uscita del labirinto, ma ancora qui, chi mi segue con la rubrica Jung in Rosso, sa che non è l'uscita, l'obiettivo, ma è il centro del labirinto, unicursale, sto parlando in particolare. Ma ciò che il labirinto ci chiama e ci allena a fare, a sviluppare, è quel pensiero che gli antichi chiamavano metis, e vale a dire un pensiero dialettico, che supera gli ostacoli raggirandoli. E quindi anche questo, entriamo in questa forma mentis, aderiamo a una realtà che è camaleontica, che ci vuole sempre più duttili, elastici, e qui mi richiama un altro grandissimo amato autore, Blumenberg, che ci dice, ci fa notare, che il labirinto costituisce proprio una metafora totale, in cui l'eroe, l'eroe dotato di metis, sagace, enigmatico, dialettico, camaleontico, appunto, incarna, che cosa? L'arcaica e violenta associazione della dialettica e della morte, una misteriosa crudeltà dell'enigma. Parole di Blumenberg che mi affascinano moltissimo e che vi restituisco. E quindi chi abbiamo? Abbiamo l'ideatore. Anche qui c'è una differenza tra il dedalo e il labirinto, ma dedalo fu appunto l'ideatore che ci apre un orizzonte ermeneutico. E il daedalon, il daedalon, per celare la verità eccessiva e minacciosa del Minotauro e dare la possibilità a ciascuno di noi di rovesciare determinate leggi. E quindi attraverso questo rovesciamento e appunto questa metis, questo essere sagaci, camaleontici, duttili, riusciamo a raggirare l'ostacolo e a tornare sui nostri passi sammi e salvi. Teseo è il prototipo proprio di questo eroe che possiede Metis, questo guerriero sapiente che sa avanzare nel tortuoso cammino di conoscenza e di verità senza lasciarsi ingannare. E spero che vi piaccia questa impostazione, a me veramente fa impazzire, cioè affascina tantissimo. E quello che sta a cuore, tra le tante cose, viene detto, a Chereni, non è tanto, non è tanto. L'accertamento filologico dei dati che lui riporta, uno studioso naturalmente molto serio, ma quella che lui stesso definì la filologia esistenziale. Cosa significa? Sondare quell'uomo segreto che poi vide anche proprio la collaborazione di Jung perché Chereni è legato a Jung e nei prolegomeni allo studio scientifico della mitologia del 1942 proprio c'è questo aspetto che li accomune. L'interesse per il mito, l'interesse per ciò che è figurativo, iconologico, l'interesse però di questa filologia esistenziale, l'esistenza dell'uomo. E li accomuna, soprattutto dell'esistenza dell'uomo, la centratura. la centratura. In quanto, in quanto, abbiamo detto che è il centro quello che bisogna raggiungere. Come valenza simbolica del sé e il mistero del labirinto per Chereni è proprio il suo centro che è anche il fine ed è anche la sua fine, è anche il suo termine, luogo in cui in cui si contiene proprio la conoscenza, il cui possesso richiede morte e rinascita. Basilare quindi è un concetto che è quello di Ergri-Fenheit che è cioè sospensione, la messa tra parentesi fenomenologica fenomenologica, ecco, e di stampo usseliano ci chiediamo, noi che comunque venendo da studi di estetica pensiamo così, perché Chereni è il destino un po' dello scienziato, la sua radice non scientifica, l'intenzio e che guida la sua ricerca, dove non è il ricercatore a scegliere ma viene come scelto, viene lui stesso ricercato, c'è questo ribaltamento afferrato, non gettato, mi raccomando, in polemica con l'essere gettati di Heidegger, ma fuso. Quindi c'è un progetto che coincide con il lanciarsi in avanti e anche verso quelle che sono le contraddizioni, quindi, di cui il labirinto è emblema, signum contraddizioni, anche Micea Eliade ha spesso assunto il labirinto a pietra di paragone e a schema ermeneutico, oltre che uristico, proprio della vita, è metafora dell'esistenza. e il labirinto di Kereni è soprattutto nel linguaggio, viene definita una tettonica linguistica, che ha fatto impazzire i traduttori, proprio per le stratificazioni di metafore, di giochi di parole, e c'è questo divertimento che capisco benissimo, perché anch'io quando scrivo nel mio piccolo mi diverto molto a giocare con le parole, però poi chiaramente ne risultano dei testi per iniziati o comunque molto difficili. E quindi di nuovo il mistero, di nuovo l'enigma e questa matrice originaria fenomenologica non è e qui c'è un po' una differenza con quello che è l'elemento diciamo energetico junghiano ma perché in realtà è proprio un accostarsi alle alla cosa al fenomeno più che pensare al processo cosa che invece Jung fa senza entrare troppo nel merito di queste differenziazioni che comunque chi ha voglia potrà andare a divertirsi a rintracciare nel mitologema vi è un'idea di pienezza di vita come di pienezza del segno come vita come rinascita come movimento come movimento e allora fin dove voglio arrivare voglio arrivare a un altro elemento molto molto importante che è quello della della danza della danza perché la danza è una forma che è stata vista tipica del movimento del labirinto e quindi c'è questo legame tra labirinto danza e naturalmente la danza ogni danza che si rispetti ha bisogno della musica quindi occorre che il movimento venga accompagnato e venga sollecitato dalla musica e il carattere comune del mito e dell'opera musicale ci dirà Walter Otto e lo ritroviamo proprio in in Mann è proprio nel dottor Faust dove ci sono dei materiali nella composizione del romanzo che si rivolgono al musicologo Adorno le mitologie di Levi Strauss culmina proprio con un testo scandito su una ripartizione musicale nella cui overture viene tematizzato il carattere comune del mito e dell'opera musicale tutto ciò ve lo segnalo perché mi riservo io stessa di andare a rivedere questi riferimenti molto interessanti mi interessano molto perché mi interessa sempre il carattere interdisciplinare che fa sì che si intrecino argomenti elementi che trascendono anche il piano propriamente linguistico anche se la lingua la parola rimane sempre importantissima e si articolano attraverso altri linguaggi appunto quello iconico quello musicale quello gestuale cinestetico e quindi è importantissimo tener conto un po' di tutti di questi elementi e che comunque mantengono anche viene detto una sequenzialità temporale non bisogna anche qui smarrirsi nel tempo nel tempo o con il tempo per Levi-Strauss mitologia e musica sono macchine che servono per sopprimere il tempo in un senso non lontano da quello di Chereni che l'intera mitologia greca potesse venire danzata e in questo modo ci fosse un tempo bloccato un tempo non sincronico ma diacronico che potesse aprire come un qualcosa di subitaneo e svelare il mistero era un po' l'idea l'idea la forza inconscia l'anelito comune a tutti gli esseri viventi la Weltanschauung legata diciamo a questo orizzonte di comprensione nel gesto danzante dobbiamo tenere presente che nulla si spiega perché la spiegazione è legata propria della parola nel gesto danzante invece che cosa c'è con quei movimenti c'è proprio questo fatto intuito questa metis che vi dicevo dell'eroe del mistero che cerca una via d'uscita che cerca una nuova nascita e se sapiente se è sapiente teseo ulisse eroi sapienti che non si lasceranno non si lasceranno distogliere ingannare dai movimenti sensuali lesig zaganti circonvoluzioni del labirinto non si lascerà soprattutto abbiamo detto che il labirinto è segnum contraddizionis distogliere dall'aporia il poeta Borges mi richiamo anche a lui ha svelato il radicale inganno dell'inesistenza del labirinto arriviamo a questa grande aporia qui lo dico e qui lo nego il labirinto c'è e non c'è c'è e non c'è in che senso ecco potrebbe potrebbe mi richiamo anche a Cle nel 1939 ha delineato il labirinto distrutto quindi il nostro emblema potrebbe diventare questo labirinto distrutto di Paul Cle grande amato pittore labirinto senza via d'uscita solo la ricerca conta il vero mistero resiste alle spiegazioni quindi vedete quanto quanto c'è nel labirinto nel labirinto distrutto nel labirinto inesistente di Borges nel labirinto che non ha senso comunque il suo senso non è rintracciabile attraverso le parole non è spiegabile ma rimane un mistero immagine quindi del labirinto come un luogo un luogo inferico perché se noi non ci spieghiamo le cose se noi non riusciamo a capire questo ci scatena angoscia e quindi una situazione inferica una situazione di di spaisamento di perturbamento e allora non è che questo labirinto è proprio dentro di noi nelle viscere negli intestini una specie di di utero materno ma anche viene detto in senso proprio più angosciante perché l'utero materno ci evoca una dimensione di non vita ma comunque di vicina alla rinascita e comunque di protezione ma anche l'uomo delle viscere il cui viso è fatto con il suo interiore pensate che ci sono delle raffigurazioni simili immagini forti senza spiegazione che si succedono e allora arriva chi Persephone Persephone dea della luna come divinità quali Ceram o Rabie dea Scrofa che tiene un porcellino e viene uccisa e dalla morte sorge poi vita e ancora testimonianze attraverso le danze nei labirinti a spirale queste immagini viene detto molto molto tedesche molto legate alla cultura tedesca si ricorda proprio a questo proposito l'isola labirinto in Schwabisch Hall in cui si svolgevano ogni tre anni danze in fila indiana isola dove c'erano dei dei tigli dei cerchi magici e poi venne anche eretto un tempio quindi un mondo sacro un mondo magico un mondo legato al folklore ai riti funerari tutto questo vi deve evocare vi dovrebbe evocare un teseo che in qualche modo raffigura anche il cristo e i labirinti di pietra mutano forma diventano anche labirinti vegetali e c'è un libro molto bello sui labirinti vegetali che vi consiglio libro di selli sui labirinti e la forma a spirale diviene importantissima e noi vediamo come la forma il meandro angolato le linee senza fine le ceramiche meandriformi che tanti reperti ci riportano ci richiamano sempre a questo proprio andare avanti indietro sono veramente immagini stupende e ancora infatti compare nella pittura vascolare la spirale a quattro volute racchiusa in un cerchio e gli uccelli che volteggiano all'interno di questa figura che conferiscono a essa una portata cosmica ecco il labirinto che sia vegetale che sia vascolare che sia di pietra veramente ci dà un'idea cosmica del macro e del micro dentro di noi che può includere tutto un infinito che si concentra in una totalità e che per quanto circoscritta può veramente includere sempre altro sempre scoprire nuove cose e il minotauro questa figura chi dimostro è al centro è una figura toro uomo racchiuso nella svastica dei labirinti che ci rimanda alla destra e alla sinistra quindi alla luce alla vita al regno di morte e di resurrezione è ancora una volta circondato da tanti altri rimandi il bestiario il bestiario è fondamentale quindi non solo il mondo vegetale che costituisce il labirinto ma l'ippocampo i pesci gli dèi che sono zoomorfi e tutto ciò tutto ciò se se usiamo metis sagaccia sappiamo in qualche modo un po' adattarci danziamo accompagniamo con il movimento con la musica tutto ciò senza lasciarci distogliere o spaventare troppo dalla pastoia della quotidianità ci abbandoniamo ci abbandoniamo a questi movimenti lenti o concitati però sempre solenni e sempre maestosi perché l'uomo l'uomo ha l'universo dentro l'uomo ha l'universo dentro questo potete sentire quando studiate i labirinti e quindi la danza la musica ci fa riscoprire quello che è proprio una conoscenza segreta selvaggia ancestrale e quindi abbiamo possiamo danzare con Dioniso con i satiri con i sileni di Pan con le baccanti che erano in qualche modo riuniti in cerchio questo cerchio che poi diventa spirale che poi diventa sempre una danza che ci riporta all'infinito racchiuso racchiuso in una totalità che però sempre si richiama a qualcos'altro e danzare in cerchio suonare il flauto viene descritta da Chereni una danza muliebre a Corfu dove le donne si tengono in cerchio e si tengono per i mignoli i mignoli sono intrecciati le mani alzate all'altezza dei seni e l'unico uomo presente invita le donne a salutare è un rito pasquale fuori del tempio è stato retto un altare e la danza come il labirinto configura questo movimento a spirale che si riavvolge su di sé che è vita è morte la signora del labirinto era una dea che le si offriva miele e qui ci si richiama ad Arianna oltre che a Persefone e e qui c'è anche un richiamo a Nice che nell'ecce uomo dice in modo piuttosto superbo ma chi conosce meglio di me Arianna nessuno e il regno era un palazzo ma che in realtà era la copia stessa dell'universo e e quindi andiamo andiamo a scoprire proprio l'universo di questo palazzo labirintico in cui abitiamo in cui abita il nostro sé e detto ciò vi lascio con un paio di informazioni che mi hanno colpito e che possono fungere in certo modo da punto d'arrivo e anche punto di partenza del centro e del labirinto e quindi siamo sempre qui al centro non ci muoviamo anche se balliamo anche se danziamo questo testo nel labirinto di Chereni in versione italiana non esiste non esiste in nessun'altra lingua nemmeno in tedesco perché è il risultato di un'operazione di assemblaggio di materiali di appunti scritti e configurati come tali mai pensati come un vero e proprio libro e questo ve lo dico perché è noto che Chereni era solito pubblicare proprio i suoi lavori a più riprese rimpaginando in vari rievesti in varie versioni ricucite ricamate con ritocchi inter e intratestuali e questo non è solamente un'operazione estetica o di gusto letterario legata alla struttura e alla forma ma soprattutto evidenzia proprio l'aspetto epistemologico della forte tenuta dei suoi interventi che sono sempre lui dice legati alla cosa al centro diceva sempre la stessa cosa rispecchiata riscritta messa alla prova nelle diverse trascrizioni questo un po' come se tutti i libri di Chereni confluissero in un unico grande saggio come se alla base di tutti i suoi studi ci fosse un unicum un unico progetto teorico generale quindi quella di ripetere di reiterare sempre la stessa verità è la peculiare caratteristica viene detto dei grandi maestri cui quando reiteriamo non è che ci diciamo siamo barbosi siamo noiosi noiosi perché non potevamo dire le cose più brevemente no siamo dei grandi maestri l'ha detto Chereni ebbene mi sono divertita molto con voi spero anche voi ascoltarmi dentro a questo labirinto in cui rimaniamo sempre al centro ciascuno alle prese con i suoi minotauri con le sue arianne namaste alla prossima grazie a tutti